Tutto in un giorno, in meno di 24 ore tra martedì sera e mercoledì pomeriggio la Serie A Beretta ha assegnato i suoi scudetti, prima le donne, poi gli uomini, prima la IOMI Salerno, poi il conversano, in modo diverso con percorsi profondamente differenti ma con in comune una spiccata, attitudine a vincere, ottavo titolo italiano, quarto consecutivo per la formazione campana, il sesto per i pugliesi che sul tetto d'Italia tornano a distanza di 10 anni dall'ultimo titolo del maggio 2011. In comune, oltre alla propensione per le vittorie, conversano e Salerno hanno anche un altro dato che merita di finire in copertina, primo scudetto seduti in panchina per Laura Avram e per Alessandro Tarafino, due che la propria bacheca personale l'avevano già riempita diffusamente da giocatori, affamati di trofai sul campo, se lo saranno entrambi allo stesso modo anche da allenatori, per tutti gli altri, fidatevi, ci sarà di cui preoccuparsi. Scudetto in meno di 24 ore ma a cammini differenti, si diceva, per conversano era solo questione di tempo, è stato, ironia della sorte, quasi un favore tra pugliesi con Fasano che martedì sera batteva 35-31 Sassari regalando ai biancoverdi l'assist per chiudere i giochi al Palazzo San Giacomo, in casa, contro Bolzano. Detto fatto, nemmeno la forza degli altoatesini ha rappresentato un ostacolo, conversano fa festa nella stagione delle triplete, Supercoppa dicembre, Coppa Italia a febbraio, ora la Serie A Beretta, chapeau. Salerno invece ha vinto, affrontando tutte le tribolazioni e le fatiche titaniche di una serie di finale terminata ai supplementari di gara 3 contro la Meccanix Sistemo d'Erso, le campane dominano l'overtime dopo aver tremato negli ultimi minuti dei tempi regolamentari, sotto di due reti a due dalla fine le salernitane pareggiano a 5 secondi dal suono della sirena con Dallacosta, poi nei supplementari fanno 7-2 di parziale e conquistano l'ottavo scudetto e diciannovesimo trofeo degli ultimi 12 campionati. È la quarta vittoria a campana in 5 serie di finale arrivate a gara 3. Sarà ripetitivo ma calza a pennello, chapeau. Amici sportivi, appassionati di pallamano nella copertina i trionfi di Iomi Salerno e Conversano, laureatesi campioni d'Italia al maschile e al femminile. Saluto a Matteo Aldamonte. Ciao a tutti. Questo appuntamento sarà molto dedicato dalla prima parte ai nuovi campioni d'Italia a partire dal Conversano che ritorna ad alzare la coppa del primo della classe a distanza di 10 anni. Esattamente 10 anni dopo, l'ultima volta nella stagione 2010-2011, sesto scudetto per Conversano che torna a scrivere il proprio nome nell'albo d'oro, primo scudetto da allenatore per Alessandro Tarafino, l'ultimo l'aveva vinto da giocatore e il suo compagno di squadra era Demis Radovcic, che è tornato a vestire la maglia di Conversano in un pala San Giacomo vuoto che siamo sicuri altrimenti avrebbe ribollito di passione per il ritorno al tricolore della formazione pugliese. Credo uno scudetto assolutamente meritato, tant'è che è arrivato con tre giornate d'anticipo sulla regular season regolare, chiamiamola così. Conversano deve recuperare altre due partite, quindi con cinque partite ancora da giocare. Campionato stravitto, stagione assolutamente da protagonista, ha completato il triplete perché è praticamente Supercoppa, Coppa Italia e scudetto per la formazione allenata da Alessandro Tarafino che abbiamo in collegamento anche per capire un po' come è trascorsa questa notte da campione d'Italia. Ciao Alessandro e complimenti ancora. Ciao, buonasera, buon pomeriggio, grazie dell'invito. Bene, abbiamo festeggiato ovviamente con tutta la squadra, con il presidente, con anche i nostri tifosi finalmente che ci hanno potuto un po' incontrare fuori dal palazzetto, è stata veramente un'emozione incredibile per tutti quanti, è una cavalcata penso speciale perché nessuno se lo aspettava all'inizio dell'anno, tre successi di questo tipo insomma era impensabile. Alessandro ciao, innanzitutto complimenti. Prima di farti la domanda, quella tradizionale, che cosa si prova a vincere l'allenatore dopo che l'hai vinto da giocatore, che cosa cambia e così via, quella poi ci sarà modo di farla sia a te che a Laura Abram. No, volevo chiederti invece che emozione è perché praticamente tu con l'attuale dirigenza avete in qualche modo avviato questo progetto di Conversano e con alcuni giocatori che fanno ancora parte di questo organico molti anni fa combattendo per la salvezza. Io mi ricordo i primi anni in cui davvero Conversano nel campionato a tre gironi faticava per riuscire comunque a mantenere la massima serie e oggi siete sul tetto di tale, è stato un cammino lungo, piccoli tasselli un anno dopo l'altro, prima la finale Scudetto persa a gara tre con Fasano, poi l'anno scorso il campionato si è interrotto, alla fine quest'anno veramente avete dominato la scena. Sì, hai detto bene, è stato un lungo percorso, è durato otto anni da quando ho preso la panchina ma sono cambiate tante cose da quel primo anno, abbiamo fatto tanta strada sia come società come organizzazione che anche nel parco giocatori sono arrivati tanti giocatori e sono cambiati tanti giocatori. È vero che per arrivare a vincere la strada è sempre tortuosa, non è mai facile, ci sono sempre degli imprevisti, si commettono anche degli errori tante volte, però questi ti devono insegnare ad andare avanti, cercare di fare meglio, aggiungere un tassello anno dopo anno ed è questo che abbiamo fatto e finalmente quest'anno siamo arrivati alla piena consacrazione. Ecco, un rammarico credo Alessandro sia rappresentato dal fatto che nell'anno della consacrazione del lavoro portato avanti dal club del presidente Roscino sia mancato il pubblico, il calore del pubblico di conversare che conosciamo molto bene, sia in Supercoppa che in Coppa Italia che soprattutto è l'ultimo atto di questa stagione, quello consumatosi ieri al Palazzo Giacomo contro il conversano, contro il Bolzano, insomma l'assenza del vostro pubblico credo si sia fatta molto sentire. Sì, noi siamo molto affezionati, i tifosi sono molto affezionati a noi quest'anno particolare, così bello, così entusiasmante, ci sono mancati tantissimo ed è un vero peccato che non si è venuto a vedere questa squadra perché veramente ha giocato bene, ha fatto delle bellissime partite, loro addirittura ci avrebbero seguito sicuramente anche in trasferta in occasione delle varie competizioni della Supercoppa, della Coppa Italia e quindi è stato un vero peccato, siamo molto dispiaciuti di questo, speriamo di recuperare il prima possibile. Il totale di Alessandro Tarafino fa 15 scudetti, 14 da giocatore, adesso questo da allenatore che cosa cambia? È la domanda che ti avevo anticipato prima. Le emozioni penso siano le stesse, cambia poco, ti senti più responsabile, hai sicuramente forse più tensione quando sei in panchina perché non riesci a scaricare in campo tutta l'adrenalina, quando sei giocatore devi pensare a giocare, a fare le azioni, quando sei in panchina invece è un po' diverso, pensi un pochettino a tutto e questa è un po' la differenza che è più visibile. Per il resto rimane tutto uguale, c'è la tensione prepartita, c'è l'adrenalina, c'è la gioia, c'è quando vinci e ovviamente anche la delusione quando perdi, quindi non cambia nulla. Ecco Alessandro, volendo operare un po' un excursus, l'anno passato il Covid ha fermato la stagione, ma ricordiamo che il commerciale era comunque in testa alla classifica, ha chiuso virtualmente in testa quella classifica poi portata a teme ma non ufficiale sulla base di parametri alitmetici. Avete cambiato molto però, nonostante il buon campionato della passata stagione e diciamocela tutta, lo sottolineavi anche tu, eravate un po' in posizione di seconda fila quest'anno, eravate gli underdog, non avevate i favori del pronostico. Quando è che hai capito realmente e concretamente che questo gruppo invece poteva puntare al bersaglio grosso? Ma dall'anno scorso sì, è vero che eravamo comunque in ottima posizione anche l'anno scorso, prima dello stop del campionato eravamo comunque in testa quindi con probabilmente una squadra molto differente da quella di quest'anno. Sono arrivati giocatori quindi altrettanto buoni però non era scontato riuscire a dare continuità al lavoro che abbiamo iniziato e per questo devo dire un doppio applauso ai ragazzi perché hanno trovato subito la sintonia tra loro, soprattutto l'impegno e lo spirito che hanno avuto quotidianamente giorno dopo giorno, veramente sono stati eccezionali, non smetterò mai di ringraziarli veramente perché hanno hanno creato veramente qualcosa di unico, di ripetibile che penso si ricorderà per anni, soprattutto qui a Conversano. Un'annata del genere era difficile da preventivare. Ma una partita, un momento in cui veramente hai capito dall'alto della tua esperienza che questo era l'anno giusto? Ma probabilmente abbiamo raggiunto la consapevolezza dopo dopo la vittoria della Supercoppa lì in col Bolzano sempre, è stata una partita durissima, spettacolare, bellissima anche, conclusa vittoriosamente ai rigori però veramente lottando fino all'ultimo e capendo anche fino a che punto forse potevamo arrivare. Questo è stato il merito di quella partita. Da lì in poi è stato un crescendo, è stato un crescendo sì perché siamo cresciuti anche come squadra, il girone di ritorno, veramente la squadra ha iniziato a giocare anche molto bene insieme, si capivano meraviglia in campo e questo è frutto del lavoro sicuramente. Ale, i giocatori festeggiano, adesso l'allenatore e la dirigenza pensano già a quello che succede del prossimo anno, che succede il prossimo anno visto che cambiando, l'anno scorso eravate primi, avete cambiato, avete vinto tutto, rimane tutto com'è o c'è qualche novità? Sì, stiamo già pensando anche all'anno prossimo ovviamente e finiamo questa stagione nel migliore dei modi cercando di onorare anche la fine del campionato e le prossime partite che abbiamo. Si pensa con un occhio anche alla stagione prossima, il presidente Roscino è sempre molto ambizioso e vuole sempre fare le cose bene, nella maniera giusta, ci mette sempre nelle migliori condizioni per poter lavorare, quindi credo che si debba fare un ulteriore passo in avanti. So che molte squadre anche si stanno attrezzando. Anche perché Alessandro ci si sta attrezzando, qualche notizia di mercato perché ci sono un po' di trattative già insomma in qualche modo o ufficializzate o ufficiose, ad esempio Pressano molto attivo, ha acquistato, ingaggiato un altro svedese, Jansson, sempre della scuderia d'Arcopranic che insomma sta dispensando diversi giocatori scandinavi in Italia, elevando notevolmente anche il valore dei giocatori e delle squadre stesse, ma poi mi sono annotato un po' di spunti di mercato perché per esempio Merano ha ingaggiato Queglio e sarà sicuramente un giocatore mancino che potrà dare tantissimo. Non è finita qui perché ad esempio Brixen in occasione del suo cinquantesimo anniversario dalla Costituzione sta rifacendo completamente la squadra con nomi anche importanti, attingendo da Cassano, Iballi, Fantinato, ma non soltanto. Insomma potremmo dire anche quelli di Conversano tra un po', eh? Ci stiamo arrivando, eh? Ditali dopo, ditali. Ditali dopo. No, no, diciamo ora, no, perché insomma par condicio, per esempio Possamai e Moretti sembrano ormai indirizzati già verso la Puglia, così come Alircovic ritorna in Italia per giocare a Sassi. Ecco, un po' di palla a mano mercato, questo è la testimonianza dell'effervescenza del movimento, no Matteo? Eh sì, anche perché, ecco, ci sono diverse squadre, perché l'ha detto anche Terafino, Conversano non partiva con i favori del pronostico, vuol dire che qualcuno i favori del pronostico ce li aveva, qualcuno non ha vinto quest'anno e quindi vorrà provare... Certo, Alessandro, che tutti questi movimenti ti fanno ben capire che c'è poco da, insomma, rilassarsi, insomma, godersi questo scudetto per poco tempo, perché poi bisogna già pensare al futuro. Esatto, sì, no, ma a me fa piacere vedere questo fermento, vuol dire che la paramano italiana si vuole avanzare di livello, vuole crescere, è importante dare sempre un buon spettacolo ai tifosi, agli appassionati, quindi questo farà sicuramente bene al campionato. Bene, possiamo anche salutare, no, Alessandro, questa è la giornata consacrata ai tecnici che hanno trionfato quest'anno, quindi Alessandro Terafino per Conversano, Laura Avram per Laiomisano che tra poco avremo in collegamento. Un'ultima notazione, Alessandro, c'è da combattere molto, soprattutto nella parte bassa della classifica, dove Molteno è già praticamente retrocesso, in bocca al lupo al club Lombardo per una pronta risalita e chapeau, perché ha onorato l'impegno contro Cicoli, mettendo in grossa difficoltà Cicoli. Poi c'è Fondi che veramente è lì e questa battaglia tra Cicoli a piano. Ecco, cosa prevedi? Non lo so. Non vorresti trovare dei loro panni, questo è chiaro. Sì, è veramente complesso, sì, la situazione lì per la salvezza, sicuramente si deciderà tutto alla fine, l'ultimo giornato, ormai ne mancano veramente poche. E quindi chi avrà più spunto, più vero, più voglia di vincere in questa ultima fase probabilmente la spunterà. Grazie Ale, in bocca al lupo, goditi questo momento. Grazie a voi, grazie a voi, un abbraccio. Ciao Tara. Ecco, dicevamo della lotta in coda, Matteo, veramente si deciderà tutto l'ultima giornata perché manco a farlo apposta, uno strano scherzo del calendario, proprio l'ultima giornata a mettere di fronte Cicoli a piano. Cicoli credo non avesse preventivato di arrivare a quella partita, dovendo probabilmente giocarsi il tutto per tutto perché credo che neanche Sergio Palazzi si aspettava una sconfitta nella giornata di ieri a Molteno, contro Molteno già retrocesso, una sconfitta che è arrivata, adesso deve giocare... Intanto stiamo vedendo la classifica e il prossimo turno che ci aspetta dove Cicoli affronterà Fasano, una partita complicata perché Fasano è in un momento davvero di grande, perché ricordiamo che Comersano ha vinto lo Scudetto probabilmente era... no, sicuramente era solo questione di giornate, però al tempo stesso lo ha vinto perché c'è stato quasi un aiuto tra pugliesi perché Fasano ha battuto Sassari la sera prima. Fasano che peraltro sta chiudendo, incroscendo questa stagione e già in qualche modo preparandosi al prossimo campionato, insomma abbiamo già parlato nei giorni scorsi di De Santis, Italo-Svedese che arricchirà il roster della formazione pugliese. E allora abbiamo, insomma, celebrato la vittoria di Comersano, arrivata nella giornata di ieri sfruttando appieno, insomma, l'aiutino del Fasano che ha sbancato il palazzo al Toro di Sassari, prima ancora, giorno prima, 24 ore prima, c'era stato il successo in gara 3, lì sì, finale scudetto della IOMI sarebbero contro la Mechanic Systemo Derso. E lì invece il cammino è stato diverso sicuramente, intanto perché ci sono stati i play-off, poi perché Salerno per vincere ha affrontato tutte le fatiche di una serie di finale che è andata, come detto, a gara 3, che è andata ai supplementari, quindi è stata una partita veramente molto tirata, dura, insomma, come giusto che sia, no? Poi quando la posta in palio alta è quando ci si gioca tutto in 60 minuti ed è riuscita a vincerla all'overtime dominando di fatto i tempi supplementari perché ha rischiato di perderlo, questo scudetto ha pareggiato a 5 secondi dalla fine con Ilara Dallacosta e poi però ha piazzato un 7-2 di parziale in 10 minuti di supplementari con Derso che probabilmente è venuta meno nelle energie mentali, sì, perché deve essere proprio crollata dopo il gol di Dallacosta. Eh vediamo, allora dovremmo avere in collegamento Laura Avram, il tecnico della IOMI Salerno che salutiamo, ringraziamo per aver raccolto il nostro invito. Ecco, facevamo un po' di conteggi a proposito di Alessandro Tarafino, anche per Laura Avram è questo, l'ottavo scudetto, facciamo un po' di calcoli stamattina, 5 da giocatrice, 2 da vice allenatore e il primo questo da allenatore senza poi considerare le tante Coppe Italia, insomma i trofei giovanili però è questo, insomma lo scudetto possiamo anche definirlo della consagrazione per il giovane tecnico, di fatto esordiente Laura Avram sulla panchina della IOMI Salerno. Allora vediamo se Laura Avram ci ascolta, soprattutto ci vede per poterla salutare. Non lo abbiamo ancora. Allora, in attesa di ripristinare il collegamento sta già provvedendo la nostra regia. Ecco Matteo, è stata comunque anche nel femminile una stagione molto particolare, molto complessa, caratterizzata dalle problematiche a noi, note a tutti, che però ha visto costantemente alla fine Salerno e Oderso sempre lì in vetta. Sì, hanno di fatto sempre condotto comunque la classifica, si sono avvicendate per un periodo di tempo, diciamo non brevissimo, Bressanone comunque ha detto la sua, forse ha anche condotto la classifica per alcune giornate, Bressanone continua a mancare forse un pochettino di continuità. Anche bersagliato dalla sfortuna nell'ultimo periodo. Questo è fuori di dubbio e nei play-off sappiamo che tutto si può rimettere in gioco, però anche in corso di stagione, ad esempio in Coppa Italia, in questi appuntamenti diciamo che Bressanone viene sempre un pochino meno. Oderso e Salerno invece ci sono state, sono arrivate fino alla finale di Coppa Italia, l'ha vinta Oderso, ricordiamo sempre le tante defezioni con cui Salerno purtroppo era arrivata all'appuntamento, alla fine si sono spartite un trofeo importante ciascuna oltre alla Supercoppa che Salerno aveva vinto battendo Cassano Magnago. È chiaro che poi in gara 3 può succedere veramente di tutto. Vediamo e chiediamo direttamente a Laura Avram quali sono state le emozioni. Intanto salutiamo il tecnico, il Campionale d'Italia, Laura Avram. Ciao Laura, grazie per aver raccolto il nostro invito. Ci ascolti? Salve, buongiorno. Sì, sì. Quali sono le sensazioni maturate in gara 3? Soprattutto nei minuti finali quando Oderso aveva messo la fleccia e vi aveva praticamente superato. Abbiamo sbagliato il tiro, mi ricordo, non sono riuscita ancora a vedere tutta la partita là, riesco a vedere solo a tratti. Mi ricordo il tiro di Kernic davanti alla porta da sola, però ho detto che lì c'è bisogno di una reazione e dopo siamo arrivati con il tiro di Dallacosta a pareggiare. Poi ovviamente il time out prima dei sperimentari ci ha permesso di resettare un pochino tutto e facciare fuori il carattere. La domanda che volevo farti, Laura, ciao innanzitutto e complimenti, è più ampia sul lavoro che hai portato avanti a Salerno da quando hai avuto modo di prendere la squadra, perché ricordiamo tu hai preso in mano la squadra dopo le dimissioni di Ruppets e hai subito perso una supercoppa e questo magari sicuramente non avevi né demerito né avuto tempo per mettere la mano sulla squadra, per mettere il tuo imprinting, però si inizia con una sconfitta e per chi come te è abituato a vincere sempre non è una cosa facile. Che tipo di lavoro hai portato avanti per arrivare poi ai titoli di quest'anno? Ma dopo la sconfitta a Brixen, che mi ricordo fu una parte, ero molto carica, ero su un altro pianeta perché il carattere mi porta a fare questo, il modo in cui mi impegno e quindi ero sicura di un risultato migliore, non di una sconfitta di un certo peso perché non avevo tutta la squadra, c'erano delle infortuni, però mentalmente le ragazze non si erano ancora riprese dopo un po' di cose. Poi abbiamo un pochino analizzato quello che ci è successo, non il risultato della supercoppa, ma in allenamento abbiamo resettato tutto, ci siamo messe d'accordo, abbiamo lavorato sulle nostre capacità e che poi si sono viste in Coppa Italia perché lì veramente abbiamo vinto sia contro Oderso e sia contro Cassano. Questo accadeva l'anno passato, ricordiamo a Siena l'anno passato prima poi dell'interruzione per Covid. Sì, le ragazze si sono riprese, il gruppo si è visto, c'era bisogno solamente di lavoro psicologico perché loro si erano un pochino buttate giù. È giusto, sono giovani, sono giocatrici, ho fatto parte di questo gruppo, so come funziona. Poi hanno cacciato tutto a Siena. E poi siamo andati avanti e purtroppo il Covid ci ha fermato perché sono sicura che anche nell'ultima parte per lo scudetto avremmo detto di più. Stavo apprezzando la lavagnetta dietro sullo sfondo. Palla a mano a 24 ore su 24. Ecco, quello che insomma è curioso poi capire, insomma Tarafino ormai appese le scarpette al chiodo già da un po' di anni, ha avuto tutto il tempo per poter indossare i panni dell'allenatore. Tu in pratica fino a 5 anni fa hai giocato, poi hai cominciato questo percorso da vice, prima di Ruppets, poi di Reich, fino ad arrivare poi al comando delle operazioni. Ecco, la differenza, il passaggio da giocatore, vice allenatore e poi la responsabilità totale da capo allenatore. Io ho pensato tanto a questo perché ricordo che negli ultimi, non so, magari tu sai meglio Marcello, negli ultimi anni facevo allenatore e giocatore, allenavo il settore giovanile e giocavo. Mi sono resa conto poi con il tempo che pensi più a quello che devi fare per le mie giocatrici, per le giovani, che quello che dovevo fare come giocatore, perché come giocatore era quello il mio lavoro, la mia responsabilità, sapevo lo spogliatoio. Però la mattina mi svegliavo che pensavo di allenare, come faccio l'allenamento, chi sta bene, chi sta male. Quando sono passata poi come vice allenatore, non è stato facile perché sono uscita da vincitrice, mi ricordo, allenare e passare dall'altra parte le mie ex compagne di squadra. Quella è stata una cosa che per me personalmente dovevo superare. Superato questo perché ovviamente dovevo capire anche dei processi che mi devo distaccare totalmente per poter avere un lavoro migliore. Come secondo allenatore ho cambiato due allenatori, abbiamo avuto sia Neven che Raio, da ognuno di loro ho preso sicuramente qualcosa di buono. Puoi arrivare per la scelta, per l'attitudine della società come primo allenatore, in un periodo del genere. Io non lo so, è bello perché comunque questo è il mio sogno, il mio futuro. Ma per me non è stato facile. È stato facile ma è stato molto bello. Ultima considerazione Matteo, che cosa vogliamo chiedere a Laura? No, e siccome tutte le volte che ho avuto la fortuna in modo di intervistarla, lei parla molto 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 di più di quello che non le è piaciuto durante la partita che non di quello che è andato bene. Allora su che cosa deve lavorare Salerno da qui in avanti per il prossimo anno? Prima di tutto adesso devono recuperare tutte quante le forze. E poi io so che ho in testa perché ho bisogno di più sistemi di difesa. Ho bisogno che loro capiscano che l'attacco e la partita finisce dopo 60 minuti. Dobbiamo lavorare su tanti aspetti, di cui sono sicura. Ma ho tanto ancora da imparare, non voglio essere ripetitiva. Sto studiando sempre tutti i giorni, mi preparo per la tesi per il terzo livello e spero di fare un lavoro migliore l'anno prossimo. Bene, allora buon lavoro, è il caso di dire. Insomma poco spazio per le celebrazioni da quello che ci pare di capire. Grazie Laura Avam e ancora complimenti a te e alla squadra per questo ennesimo trionfo. Ora ci fermiamo Matteo, poi l'ultima parte la dedicheremo agli appuntamenti che ancora attendono gli appassionati perché abbiamo celebrato i campioni d'Italia, ma alle porte ci sono le finals per la promozione in Serie A e che noi chiaramente seguiremo tra poco. Mettiti comodo e scegli tu quale partita o programma guardare, in diretta o indifferita, sul device che più preferisci, sempre e dovunque. Tennis, padel e beach tennis, tutorial, highlights, approfondimenti e grandi storie. La sottoscrizione è inclusa nel costo della tessera fit. Registrati su supertennics.it e scarica l'app. Matteo sta per cominciare una fase importante della stagione, non perché quella che abbiamo appena messo alle spalle sia stata meno importante, tutt'altro, però ora cominciano a scadenzarsi vari appuntamenti internazionali e nazionali. Partirei da quelli internazionali. Sì, con la Champions League che va dritta verso la Final Four. Oggi si chiudono i quarti di finale. Ieri si sono giocate due partite dei quarti delle gare di ritorno con alcune sorprese. Intanto i campioni in carica del kill, squadra tedesca, sono stati eliminati dopo aver vinto l'andata dal Paris Saint-Germain e poteva starci probabilmente perché il Paris Saint-Germain è una super squadra con giocatori di assoluto rilevo su tutti, nonostante l'assenza di Karabatic, Michel Hansen, la superstar danese. Dunque il Paris Saint-Germain è riuscito a girare quello che era successo, il meno due della partita di andata, ma la grande notizia invece, stiamo vedendo le immagini, noi l'abbiamo seguita ieri su Sky Sport, è l'Alborg, squadra danese che per la prima volta giocava ai quarti di finale e incredibilmente ha eliminato la grande favorita Flensburg, riuscendo ieri a difendere i 5 gol di scarto che aveva accumulato all'andata, qualificandosi dunque alla Final Four. Adesso ci proveranno il Nantes contro il Vesprame e il Barcellona che è favorito contro il Mesco Brest, ricordo che la Final Four verrà seguita il 12 e 13 giugno su Sky Sport. E chissà che questo non possa essere l'anno della consagrazione del Paris Saint-Germain dopo aver tanto investito. Ora o mai più. Esatto, ora o mai più. Venendo e ritornando invece nei confini italiani, ci attende un fine maggio, inizio giugno, ricchissimo di appuntamenti, a partire dalle Finals per la promozione in A1 al maschile e al femminile, Matteo. Tour de Force, si parte il 26 maggio, per concludere il 30 maggio con le Final Six della Serie A2 al maschile, sono stati sorteggiati i gironi, li stiamo vedendo in grafica, girone A con Noci, Carpi e Torri, girone B, Malo, Secchia Rubiera e Genera Lanzara. Queste sono le prime e le seconde classificate dei tre gironi della fase preliminare, mentre sono otto squadre per quanto riguarda la femminile che inizia il 29 maggio e finisce il 2 giugno, Casal Grande, Padana, Mezzocorona, Padova e Aretusa, Dosso Buono, Brunec, Tusse Prato e Teramo nell'altro raggruppamento. Quattro squadre in entrambe le manifestazioni, si qualificano e accedono alla Serie Averetta del prossimo anno le prime due, quindi le vincitrici delle semifinali. La finale della domenica assegna la Coppa Italia di categoria. E quindi due promozioni per la 1 maschile, due promozioni per la 1 femminile in palio a Chieti, in questa ricca settimana di gare c'è la Coppa che assegna, che di fatto determina la prima della classe del campionato di A2, anche se la finale sarà soprattutto per lo spettacolo, visto il consigliato che saranno le due gare di semifinale ad indicare le squadre promosse in A1, ma comunque manifestazioni da seguire dall'inizio alla fine e lo faremo come sempre sui nostri canali. È tutto Matteo, siamo andati anche oltre qualche minuto quello che normalmente è il nostro format, però d'altronde c'era da celebrare i tecnici e i club, ovviamente ricordiamo Roscino, presidente del Comersano, Pisapia, presidente della Iomisaleno, anche perché spesso celebriamo la parte tecnica e tendiamo in qualche modo a dimenticare, sbagliando ovviamente, chi invece porta avanti con grande merito queste imprese sportive. È tutto, grazie Matteo, grazie a voi, ci vediamo settimana prossima, arrivederci.